Sono qui perché ho paura e ho paura non perché sono una vigliacca, non perché ho la percezione della paura, ho paura perché faccio l'avvocato e chi fa l'avvocato sapete cosa fa? Legge i processi e quello che si dicono tra loro i delinquenti. Bene, vi voglio leggere un intercettazione tra delinquenti. Se ti prendono in Romania ti danno 7-8 anni per una tuta di ginnastica. In Italia è diverso. Aspetta le prime piogge e raggiungimi, vieni qui in Italia a rubare. Sta per accadere qualcosa di molto grave. Ignazio De Francisci, quindi non Salvini, non un leghista che è il procuratore generale di Bologna, ha detto che esiste un flusso migratorio per scopi criminali. Sapete perché? Perché agli occhi della criminalità dell'Est commettere reati in Italia è un'operazione più lucrosa e meno rischiosa. Volete sapere quali sono i vantaggi che offre l'Italia? Noi offriamo tre vantaggi a chi viene a delinquere, cioè l'Italia offre ricchi premi e cotidione. Uno, impunità. Voi direte, beh, avvocato, ma non è vero. In questo momento tutti stanno cercando Igor e il russo. Ma c'era bisogno di aspettare ora per cercarlo? O forse dovevamo andare un po' prima, quando aveva il provvedimento di espulsione? Aspettate, perché quando si riescono a prendere i delinquenti, quindi dopo che abbiamo speso denaro e forze dell'ordine, energie, a prendere i delinquenti, sapete cosa succede? Si dice al delinquente, prego, prego, venga, venga nelle aule giudiziarie, che inizia un processo di otto anni, durante i quali i delinquenti continuano a consumare i reati. Quindi prima lo prendo e poi gli dico, aspetta otto anni. Io difendo moltissime donne, sapete cosa fanno le donne? Fanno le denunzie e poi mi dicono, scusi, avvocato, io ho fatto una denunzia, lei mi ha fatto fare la denunzia, ma quello che mi ha violentato, ora è libero, fino a otto anni, non avrà una sentenza e le donne muoiono massacrate in attesa di giudizio. È gravissimo, è gravissimo. E siccome ci sono tantissimi processi e c'è un grandissimo arretrato, voi cosa fate se avete un arretrato in ufficio? Voi cercate di portarvi avanti. In Italia sapete cosa si fa se c'è arretrato? Non si fanno più i processi, cioè noi diciamo i delinquenti, se tu rinunzi al processo io ti do uno sconto di pena, così non mi fai perdere tempo. Attenzione, non è vero che non si perde tempo, perché se io ti do uno sconto di pena, cosa succede? Che tu torni presto fuori e se ti acciuffo ti devo processare due volte, due al posto di uno, è mai possibile? Attenzione, dobbiamo opporci a tutti i riti premiali. Cosa si premia affari? Chi delinque? Sapete che oggi vengono premiati coloro che rinunziano i processi? Vengono premiati con un terzo di sconto di pena. Non perché si pentono, non perché restituiscono la refurtiva? Solo perché non fanno il processo, anche se vengono colti in flagranza. E quindi che cosa rinunziano? Me lo spiegate. E noi li premiamo, ricchi premi e quotidiani. Per quanto riguarda il carcere, noi abbiamo un esempio di giustizia al contrario, perché di fronte al sovraffollamento cosa fareste voi se c'è un ospedale che è molto pieno? Costruireste nuove ale dell'ospedale? Invece noi no. Abbiamo una visione tipo idraulico del carcere. E cioè stappiamo, facciamo uscire i delinquenti. Quando è pieno stappiamo e diamo gli indulti. Voglio soltanto dirvi, sulla legittima difesa, che io credo una cosa. Se quello che io vi ho detto è vero, e non sto esagerando, non ho motivo, sono dati tecnici, noi non siamo difesi. Ma se non siamo difesi, almeno ci permettono di difenderci? Almeno possiamo avere il diritto di difenderci? Il diritto di reagire? Voglio soltanto dirvi ora come funziona la legittima difesa. Funziona in questo modo. Se uno sconosciuto entra a casa vostra con la pistola in mano, voi non potete sparargli. Voi potete al massimo prendere una lente di ingrandimento. Sapete perché? Perché lo Stato dice che dovete fare delle indagini notturne. Dovete indagare, dovete guardare se la persona, se lo sconosciuto che è a casa vostra, in realtà vi sta puntando la pistola. Perché soltanto se il pericolo è imminente potete reagire. Se invece il ladro, ad esempio, sta camminando per casa, state attenti a non sparare. Dovete prima pensare, non è che a casa ho qualcosa diverso dalla pistola con la quale posso offenderlo un po' meno? Cioè lo Stato pretende che voi siate degli investigatori notturni, che voi siate degli Sherlock Holmes. Dopodiché, se per caso sparate, perché magari vedete che il ladro si sta avviando verso la camera di vostro figlio e per caso lo colpite alle spalle, sarà omicidio volontario, ergastolo. Ed allora, io credo che la legittima difesa debba essere profondamente corretta, con un principio facilissimo. Chiunque entra in casa altrui, per il fatto stesso che entra, accetta che può anche non uscire più. Voi direte, ma questo è un eccesso? No, no. Non è un eccesso. Io ho assistito tantissime persone che ovviamente hanno reagito e sono stati anni e anni a difendersi, che hanno dovuto pagare avvocati, che hanno dovuto pagare risarcimento dei danni nei confronti degli aggressori. A me questa giustizia mi sembra una giustizia capovolta. Dobbiamo cambiarla, dobbiamo modificarla. E voglio dirvi una cosa, e con questo concludo. Lo voglio dire alle madri, lo voglio dire alle donne che sono qui, a tutte le donne che sono qui. Io di notte a volte ho paura. E se per caso dovessi scegliere di prendere una pistola, non lo farei perché sono una pistolera. Lo farei perché sono madre. Madre. E ho paura. Ho paura. Ho paura. E siccome siamo nel paese della giustizia capovolta, invito mamma e papà, la sera quando raccontate le favole ai vostri figli dovete cominciare a fare quello che faccio io con mio figlio di sei anni. Io racconto anche, le conoscete le fiabbe capovolte. Esistono delle fiabbe al contrario. Ad esempio, il cappuccetto rosso diventa cattiva e il lupo diventa buono. Ecco, la legittima difesa per ora è come una favola capovolta, in cui il cappuccetto rosso è cattiva e il lupo è buonissimo. Ecco l'immagine. Ciao a tutti.